Il Friburgo ospita il Borussia Dortmund, le probabili formazioni Friburgo, Borussia Dortmund, una partita mai scontata, nemmeno per una squadra come il BVB. I gialloni rivengono da due vittorie su due partite, 5 gol segnati e 0 subiti, una media di tutto rispetto per la squadra allenata da Peter Bosch che sembra molto determinata a fare 3 su 3. Il Borussia Dortmund va ad affrontare il Friburgo con due ottime notizie, il rientro di Julian Weigl dopo l'infortunio horror nel finale della scorsa Bundesliga e il rientro anche di Marcel Schmelzer. Il capitano del Borussia Dortmund dovrebbe partire titolare, mentre Weigl dovrebbe andare in panchina. Il Friburgo dopo l'ultima ottima stagione, vuole riconfermarsi e prendere anche quest'anno una salvezza tranquilla anche se non sarà facile dopo gli addi di Maximilian Philippe, proprio al Borussia Dortmund e di Vincenzo Grifo al Borussia Spondamo e Tengladbach. Se la squadra di Bosch ha iniziato benissimo, non possiamo dire lo stesso del Friburgo, il loro inizio non è stato dei migliori, un punto su due partite e 5 gol subiti. Oggi si cerca l'impresa per un possibile riscatto. Una partita che riserverà sicuramente grandi emozioni e che diventa una bel test prima della gara di mercoledì sera contro il Tottenham per i gialloneri. Ecco le probabili formazioni. Friburgo, Schwove, Gunther, Soyuncu, Schuster, Lennart, Stenzel, Franz, Abrasi, Ravet, Haberer, Niederlechner. Borussia Dortmund, Burki, Pizzek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Sain, Castro, Goetze, Pulisic, Philippe, Aubameyang. .